ciao benvenuto benvenuta questa è la lucerna di cronus e questa è la rubrica espresso più tarocchi un consiglio per la giornata la giornata di oggi è martedì 20 settembre andiamo a vedere che cosa vogliono consigliarci i tarocchi dei famigli un mazzo bellissimo che è entrato di recente a far parte della collezione di mazzi della lucerna di cronus siamo in vista dell'equinozio di autunno venerdì 23 sarà il giorno dell'equinozio ti ricordo che non terrò consulti come sempre faccio per i sostizi e per gli equinozi intanto andiamo a vedere per oggi martedì 20 settembre che cosa vogliono consigliarci gli arcani della tarocco dei famigli cosa volete consigliare a coloro che stanno guardando questo video per la giornata di martedì 20 settembre vediamo un po il giudizio il sette di bastoni il tre di denari è una combinazione molto bella quella di queste carte va a parlare di libertà il più grande dono che si possa fare a noi stessi il sette di bastoni è una carta di difesa delle proprie opinioni potrebbe dirci che magari hai una situazione conflittuale con un ex con una ex con i tuoi familiari magari sul lavoro con gli amici oppure magari hai un conflitto interiore che stai cercando di epurare di sanare in ogni caso qualsiasi sia la tua situazione c'è un giudizio una carta di purificazione di rilascio su quella che è una situazione conflittuale anche grazie ad un insegnamento che forse l'universo vuole darti potrebbe accadere ora potrebbe essere già accaduto da poco potrebbe accadere nei prossimi giorni è comunque il consiglio di oggi difendi la tua opinione si saldo si salda in quelle che sono le tue certezze e ricordati che comunque la tua centratura ha permesso di poter arrivare a una soluzione o permetterà di poter arrivare a una soluzione di un conflitto anche grazie a quella che è una visione corale di una situazione quindi maturerai una nuova visione riuscirai a vedere vecchi conflitti o magari atteggiamenti conflittuali con un'altra prospettiva e quindi riuscirai anche con questo 3 di denari ad apprendere quello che è un insegnamento intorno al vero senso della vita non tanto al vero senso quello che conta per te sono tre carte meravigliose il 7 di bastoni anche una carta che parla di una persona anticonformista che magari un po si fa beffe delle regole dogmatiche di questa società fondamentalmente libera ma solo di facciata una società fintamente libera in realtà molto dogmatica molto repressiva quindi la carta del giudizio ci va a dire che anche se tu non avessi conflitti anche se non dovessero arrivarti notizie che ti portano quindi a sanare conflitti che portano magari anche ad apprendere una lezione di vita che ti è utile per crescere qua c'è comunque il ribadire fermamente la propria volontà di essere diversi da quella che è un po la fiumana di persone che magari vivono in maniera molto più convenzionale la rivendicazione di un atteggiamento forse non comune ma certamente quello di una persona che come una stella brilla di luce propria non di luce riflessa il giudizio è una carta di purificazione di notizie di ottime notizie nel caso anche di fidanzamento di scopi comuni contratto di lavoro ecco se riesci a riconoscere la tua unicità la tua diversità non ci sarà porta che non ti sarà aperta e questo 3 di denari sarà sempre la lezione identica a quella che veniva prima riconoscendo il tuo valore avendo uno sguardo più corale su tutti e capendo qual è la tua unicità tu riuscirai ad avviare un processo di miglioramento sostanziale di quella che è la tua vita riconosci la tua unicità è il messaggio di oggi anche laddove ci fossero giudizi di persone attorno a te riconosci questo sette di bastoni fallo tuo rivendica la tua unicità di pensiero il tuo modo forse anticonformista forse anche un po ribelle di approcciarti se non a tutte almeno ad alcune situazioni o a quelle a cui tieni di più il voglio fare a modo mio ma perché perché ne hai ben d'onde di fare a modo tuo hai un giudizio che hai maturato alla luce dell'esperienza che ti porterà sicuramente a trovare la strada migliore per realizzarti quindi il consiglio di oggi è molto centrato su quella che è la nostra dimensione caratteriale e ti va a dire appunto di difendere a spada tratta un po quella che è la certezza della tua unicità in una situazione e anche difendere le ragioni di questa unicità quindi credere fermamente in te stesso in te stessa in tutto ciò che ti poni come obiettivo e soprattutto nel modo che hai di rapportarti agli altri anche quindi di interagire con gli altri giudizi una carta di una pluralità di persone è un messaggio molto bello perché è praticamente il singolo si rapporta alla comunità che sceglie di farne parte ma allo stesso tempo sceglie di non aderire a tutte le regole ma soltanto a quelle che gli sembrano sensate in alcuni casi questa presa di coscienza ti porterà ad avviare un processo di realizzazione per cui oltre ad un apprendimento di vita in alcuni casi appunto ci sarà anche un apprendimento materiale quindi magari nuove conoscenze quindi magari nuove opportunità questo perché perché saprai darti valore il valore invece io lo do al mio buon espresso che anche stamani mi fa compagnia anche stamani non ci sono i biscottini in compenso fuori campo c'è la panca la cyclette il bilanciere insomma c'è un po di roba per vedere di buttare giù tutti i cornetti che in questi giorni ho assimilato ti auguro comunque una bellissima giornata ti ricordo che non solo oggi esce il video dell'espresso e tarocchi ma esce anche un nuovo interattivo quale sarà la mia prossima relazione importante quindi si parla di roba grossa direi oggi quindi alle 13 ti invito se vuoi a guardare questo video e ovviamente ti rinnovo l'invito per la rubrica espresso e tarocchi domani mercoledì 21 settembre ti auguro buona giornata ciao